Il rendiconto asseverato dal commissario ad acta Filippo Rosa è giunto al vaglio dei revisori dei conti che hanno dato parere positivo. Quali sono adesso i successivi step? Il successivo step è quello di comunicare tutto questo, quindi il rendiconto e il parere positivo dei revisori che è arrivato nei nostri uffici ieri a tutti i consiglieri che avranno 20 giorni per le loro osservazioni e per studiarlo prima di andare in Consiglio Comunale. Naturalmente questo lascia ben sperare ma soprattutto fa capire che si continua a lavorare anche nella settimana di ferragosto proprio per portare a termine questo intero a macchina che riguarda il bilancio. Certamente sì, noi siamo chiaramente abituati a lavorare anche nella settimana di ferragosto. Mi dispiace per i revisori dei conti a cui dovremo a brevissimo mandare anche la delibera passata in giunta ieri sul bilancio e avranno 10 giorni per il loro parere. Dopodiché verrà trasmesso ai consiglieri che a loro volta avranno 7 giorni per presentare i loro emendamenti e poi ci saranno ulteriori 3 giorni per i revisori per rispondere agli emendamenti dei consiglieri. Una volta stabilito e concluso questo iter, quindi ripeto 10 giorni per i revisori, 7 giorni per i consiglieri, 3 giorni di nuovo per i revisori per rispondere agli emendamenti dei consiglieri, si può stabilire la data del consiglio comunale che deve essere comunicata 5 giorni prima da un punto di vista burocratico. Quindi tutto sommato riusciremo nella prima settimana di settembre a portare in consiglio comunale la delibera del bilancio previsionale.